Conferenza stampa congiunta stamane a Pescara dei gruppi consigliari di rifondazione comunista e comunisti italiani per fare il punto sulle misure contenute nella legge finanziaria 2012 della regione Abruzzo. I consiglieri regionali di minoranza Maurizio Cerbo e Antonio Saia hanno illustrato gli emendamenti da loro presentati che sono stati approvati anche con il voto del centrodestra nell'ultimo documento finanziario grazie ai quali, secondo i due consiglieri di minoranza, l'Abruzzo diventerà una regione più moderna e maggiormente attenta ai bisogni dei cittadini. Tra i provvedimenti ci sono tra gli altri la nomina tecnica dei revisori degli enti pubblici sottratta alla politica al piano cave atteso dal 1983, dal ticket sanitario che non potrà più superare l'intero costo della prestazione, alle provvidenze per i nefrapatici, dall'obbligo per i manager delle ASL di ridurre le liste d'attesa appena la non riconferma dell'incarico, all'esenzione dei ticket per l'esame del citomegalovirus per le donne in gravidanza fino ad arrivare all'estensione della vaccinazione contro il papiloma virus. Maurizio Cerbo. Abbiamo proposto un sacco di cose, abbiamo fatto una battaglia, le abbiamo imposte e credo che giovino alla regione sia sul piano dell'ambiente, dei diritti sociali, dei diritti civili e della modernizzazione perché abbiamo approvato anche norme anticasta molto importanti, quindi credo che siano innovativi e il fatto che dopo che con sudore, diciamo, e alzando un po' la voce, infatti ancora non la recupero, li abbiamo imposti, vedo che piacciono a tutti e anche gli altri partiti e questo ci fa piacere perché il nostro obiettivo è cambiare le cose, non essere impegnati in sterile e beghe condominali come accade troppo spesso nella politica del bipolarismo. A noi ci interessa cambiare le cose e un po' di battaglie che portiamo avanti da anni sono diventate legge con la finanziaria e questo ci fa piacere, i cittadini potranno verificarlo a partire dall'abrogazione di una parte dei ticket fino alle questioni relative all'ambiente. Saia ha poi voluto precisare che i tanti emendamenti presentati alla finanziaria da rifondazione e dai comunisti italiani non volevano rappresentare un mero atteggiamento istruzionistico da parte dei gruppi consigliari. L'attività che congiuntamente con il compagno Neocerbo di rifondazione abbiamo fatto in consiglio regionale da comunisti, questa volta ha portato dei frutti perché è stato approvato un complesso di emendamenti che vanno nell'interesse dell'intera società abruzzese e che siano apprezzabili, e che lo dimostra il fatto che lo stesso Chiodi se ne è fatto vanto nella sua conferenza stampa e sono stati poi votati all'unanimità, il che quindi ci conforta del fatto prima di tutto che i nostri emendamenti, anche se strappati con una battaglia serrata e istruzionistica, comunque erano emendamenti giusti, altrimenti non sarebbero stati votati all'unanimità. E poi ci conforta del fatto che la nostra battaglia una volta tanto veramente è servita e devo dire, dimostra una volta per tutte che nella tradizione dei comunisti italiani, che sono una peculiarità anche sul piano internazionale, la tradizione è quella appunto di fare sempre delle lotte giuste per ottenere dei risultati e giammai per ostacolare o per impedire che la macchina dello Stato vada avanti. Quindi sempre nell'interesse delle persone che più hanno bisogno di uno Stato che funzioni. Grazie. 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 Grazie.